Siamo con Vittorio Dotti a Finale Ligure che presenta il libro L'Avvocato del Diavolo, dedicato al suo rapporto con Silvio Berlusconi, uno degli uomini che ha segnato la vita politica italiana. Cosa ci può dire su questo libro? E' un libro che non vuole fare un'analisi politica, non vuole fare una storia della politica di Berlusconi, ma vuole entrare nel rapporto umano tra chi ha scritto il libro e Berlusconi. Io sono stato l'Avvocato suo per 16 anni, quindi molto prima dell'ingresso in politica e quindi abbiamo una lunga storia di rapporti sul piano economico, sul piano giudiziario, sul piano dei contratti, dell'espansione di questo gruppo e mi sembrava giusto portare a conoscenza del grande pubblico perché è fatto tutto di episodi e circostanze che la gente normalmente non conosce e che invece secondo me sono importanti per poter valutare in maniera esatta il personaggio. Perché diciamo che quest'anno sono trascorsi 20 anni dell'entrata politica di Berlusconi. Posso dire che il libro esce in concomitanza con il ventennio della riuscita in campo di Berlusconi, è stata nel 1994, quindi quest'anno si compiono i 20 anni e ho riuscito a passare un tempo abbastanza lungo per poter valutare le cose con maggiore serenità e con maggiore distanza.